Mercoledì 10 ottobre presso Rime per un aperitivo dalle 19 in poi per conoscere dei prodotti della Sicilia, le tenute orestiadi eccellenti nella produzione di vino ma anche di conserve infatti i nostri chef prepareranno un boffè con l'utilizzo appunto dei loro prodotti dai capperi alle melanzane, ai peperoni essiccati, alle olive nere tutto insieme per abbinarli a questi meravigliosi vini Sono Giuseppe Troilo, sono qui in qualità di rappresentante dell'azienda tenute orestiadi di Gibellina in provincia di Trapani per i rossi abbiamo soprattutto il nero d'avola, il frappato e il perricone per i bianchi abbiamo il grillo, abbiamo il catarratto, l'inzolia che ritroviamo poi anche in Toscana sotto forma di ansonica qui porteremo nella serata due linee di prodotti la linea moline a vento e la linea tenute orestiadi